Io andavo a letto a luna, mi alzavo le cinque, prima delle cinque, e per forza ho preso l'esaurimento, non ce la facevo più. Alla fine mio marito ha trovato un lavoro, si è preso la 500 a rate della Fiat, sai, sembrava che non era l'ultimo cielo. Allora fa, senti, fai due panini alle bambine e andiamo verso Susa, fuori prendere un po' di fresco, veniamo su verso Susa, prima di quelle zone di Bruzzolo, Susa, là, e ci fermiamo che passava la Dora. Allora, là vicino erano anche due tavoli per fare il picnic e noi ci fermiamo, mio marito si mette il vino dentro nell'acqua fresca nel fiume. Guarda, là c'è un bel campo e dico, ma cosa fanno quell'uomo con quelle donne là in quel campo? Era, chi hanno da tagliare, chi hanno di fiori era, allora vado a vedere, vedo che raccolgono, ah, fanno le tisane, senz'altro per le tisane. Cosa raccogliete per favore, la mia curiosità? Eh, fa signora, per le pomate fare buone, dice per i massaggi. Ah, gli aiuto a raccogliere. Pensate, mio marito era arrabbiato come un cane, fa, non è possibile, fa, che sei venuta qui per riposare e tu là col sole. Ma perdonami, dico, ma è molto interessante questo. Sono tante cose che possiamo noi per la salute, mi interessava a me le tisane. Sì, questo si fa anche la tisana, quello. Lui mi ha istruita in un modo quel giorno che ti dico mi è rimasto tutto qua. Alla fine è venuto e ha detto a mio marito, che non sgridi la sua signora, dice, lasci venire la sua signora da me, che così impara, impara lei, fa. E lui fa, ma lei è matto, cosa sta dicendo? Noi, dice, siamo a Torino. E beh, dice, c'è il treno anche. Senta, signore, io ho una vita che prego al signore, che mi fa trovare una persona, che mi mandi una persona, che la posso insegnare ad andare avanti, questo che ho imparato. Fare i massaggi, mettere a posto le ossa, le cadute, le distorsioni. E dice, lei dice a questo dono, fa, io la voglio istruire, fa, me la lasci per favore. Lo pregava. Quando io ho visto che cosa faceva lui, ho detto io, ma se non c'è treno vado anche a piedi, perché era molto importante. Venivano da tutte le parti, venivano a portare i malati. Venivano dalla Francia, dalla Liguria, da... Poi, quando venivano con la Croce Rossa dal CTO di Torino, portavano l'ammalato che lo mette a posto. Ho detto, queste non sono cose da non imparare. Un giorno portano un sabato un bambino, un bambino di Novara, due anni e mezzo. Questo bambino è caduto alla nonna dal seggiolone e la sua testa è rimasta così, così come è caduto. Lingua fuori, occhi strabici e la testa tutta storpia. Era uno spavento a vedere questa creatura. e lo hanno portato 40 giorni di ospedale che lo curavano a Novara, che si chiamava, proprio il Geuna mi sembra che aveva questo nome, che era molto famoso, neurologo. Ha detto alla fine, guardate, portatelo a casa. Non posso fare ancora l'intervento perché è troppo piccolo. Dobbiamo aspettare ancora. Portandolo fuori dall'ospedale. Le aspettava una persona, un camice bianco, credevano che era un dottore che gli ha dato l'indirizzo, ha detto portatelo là, da questo signore. e loro sono arrivati e l'hanno portato quel sabato questo bambino, papà e mamma e la nonna, che piangevano tutti e tre. Cinque minuti. Neanche l'ha messo a posto. Sai come? Aveva un letto di ferro battuto di una persona. e a me mi dice così, adesso tu scavalca come sta sedia. Così, uguale. Scavalca il letto. Così. Mi mette il bambino qui, che ferro battuto, no? Il letto. In modo che non si muove e tu lo tieni alle spalle fermo, duro, fermo. Fermo. E lui con sta testina così piangeva e io lo tengo come mi ha detto e comincia a massaggiare, massaggiare e poi tam! 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 Tre colpi. Gli occhi sono andati a posto, la lingua si è ritirata. Ah! Gridava di gioia e rideva sto bambino. Poi dici che non è un miracolo quello. I genitori erano fuori nella sala e la nonna, lui non voleva nessuno, solo l'ammalato e io e lui. Quando abbiamo aperto lui a porta, venite a vedere, prendete il vostro figlio, quando l'hanno visto normale. madonna mia! Ma non ti potevi quella gioia. Allora fa, questo uomo fa, il papà, ma cosa li dobbiamo, cosa li dobbiamo? Dobbiamo festeggiare oggi fa. Oggi c'è una grande festa col bambino, dobbiamo festeggiare. chiama sua moglie, si chiamava Germenna, sua moglie. Vieni Germenna, cosa c'è? Telefona subito al ristorante. E così abbiamo festeggiato questo bambino e loro erano felici, contenti. In cinque minuti è stato guarito e quel professore, Giona, ha detto, ha portatelo a casa. Ma chi era quel uomo? Dice, quel vestito tutto di bianco. Ma chi era quello là che ci ha dato? Non l'avevamo mai visto in ospedale. Come pranzavo là tutti i giorni con loro, portavo qualcosa da casa. Allora, quel giorno avevo detto, mi ricordo, qua era sotto il negozio di alimentari, che ti dà un po' di agnolotti che porto domani su. Ma quella volta erano rari gli agnolotti, sai che facevo io come oggi che c'è finché vuoi. E porto questi agnolotti. Sua moglie fa un buon ravù e fa questi agnolotti per pranzo. Finito a luna, fino a luna si lavorava. E poi alle tre. Pronto, tavolo con gli agnolotti si va a lavare le mani. Io prima in bagno, perché lavoravo, facevamo i massaggi. Allora, vado là e li faccio. Adesso dico, aspettiamo Nemore. E lui arriva perché lui ci ha lavato dopo di me le mani in bagno e arriva e li fa così per la spalatina. Non li possiamo mangiare questi agnolotti. ma io ho fame e ho detto io Nemore. Ma cosa scherzi? Sai. No fa. Li mangeremo stasera. Se vuoi una mela te la prendi e vai passeggiare in cortile e lui non ha mangiato niente si è buttato così su un divano e si è coperto la testa con un play e dico ma io ho da fare con un pazzo. Madonna mia aveva fame mi alzavo presto puoi capire e avevo anche fame allora pensavo di tutto ma sono mica avvelenati ma perché non ne abbiamo mangiati ma che rosicchiavo sta mela con tutta la rabbia andavo su e giù in giardino suo e dicevo ma cosa faccio con un matto così che non mi lascia neanche mangiare poi sono le tre si scopre la croce rossa del CTO di Torino suona al portone e si scopre e fa Germena apre il portone sono già qui la croce rossa è arrivata io cado dalle nuole e lei anche la moglie fa ma se non ha telefonato nessuno ma chi viene con la croce rossa sai chi era un ragazzo di 27 anni di bra caduto dal quinto piano dall'impalcatura con la croce rossa l'hanno portato al CTO di Torino quando l'hanno visto hanno detto questo qui non camminerà mai più tutta la schiena rotta perché è caduto giù dal quinto piano dalla palcatura sulla schiena entriamo dentro era il dottore nessuno deve venire dentro alla moglie ha detto senti prendi il secchio e gli ha ordinato come fare l'ingesatura aveva una piccola vetrinetta lì e dentro c'era un cognac 84 senti prende due bicchieri versa metà bicchiere un altro metà bicchiere e prende così bene io ma lei è matto faccio se non ho mangiato che una mela vuole che beva sto cognac ho detto poi mi ubriaco poi io non sono abituata bevi lo fa mi ha scosso adesso lo devi bere e lo beviamo madonna mia adesso fa ti verrà una energia una forza perché questo alcol aiuta il cuore perché tu devi resistere essere forte fa l'ha malato l'ha mi ha detto sulla pancia giù sto ragazzo era bello lungo sto ragazzone e fa adesso tu tieni fermo la spiana tu tieni qua fermo qua qua il suo corpo la sua spiana era qua così e io dovevo tenere come anelli fermi le vertebre e così i dischi fermi e lui lavorava quelli tutti rotti sembrava che fa un puzzle guarda lui è andato con una mano sotto la pancia e con l'altra sopra con l'altra sopra e lui continuava a dire schiaccia non mollare schiaccia schiaccia non mollare e lì ti ho messo le dita altro che cognac era bisogno io ti dico mi correva giù per la spina dorsale per la schiena come un fiume e il sudore della forza energia che doveva schiacciare forte e lui ha ricomposto tutta la sua schiena e succede va di nuovo dentro in questa vetrinetta prende una bottiglia che sembrava che c'è dentro di birra quella è mezzo litro di birra che cavolo dico questa è mezzo litro di birra sai cos'era dentro la resina di pino e sulla schiena dove lui ha ricomposto prende questa bottiglia e versa così come miele così versa versa poi ha messo le garze poi ha chiamato la moglie che porta il secchio pronto per farlo in ingessatura dopo l'abbiamo ingessato bene poi quattro ore lì fermo così bagnato ingessato bisognava fare sugare non si può muovere adesso per farlo via così un fondi qua io un altro fondi di là e asciugarlo con i fondi suga 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 finché non era asciugato non si doveva muovere quando è stato asciutto allora l'abbiamo girato nella lettica e se l'hanno portato via l'ho riportato fra 15 giorni lo hanno riportato dopo 15 giorni e abbiamo tolto il gesù e lui li ha fatto e anche io massaggi a tutto corpo ha preso un vaso di crema questa che faccio anche oggi e l'ha fatto tutto bagnato tutta tanta crema tanta e poi li ha messo sulla schiena e poi due fasse allora queste perché dice quelle elastiche cedono bisogna duro fermo che tiene fermo e le ha dato più di mezzo chilo di crema e le ha detto adesso lo portate e li passate continuate a ungere fasciare e altri 15 giorni portatelo di nuovo quando l'hanno portato di nuovo lui già non serviva più niente era quasi guarito era era miracolo però qualche giorno fa una settimana secondo e dice voglio vedere cosa come va sai che è venuto guidando la macchina da solo è venuto sto ragazzo da solo guidava la macchina passato un po' di tempo e vado là ero curiosa quello che sai anche tu curiosa adesso ma come sapeli ti sei scoperto e ha detto sono arrivati sono arrivati e lui fa sai Pina te lo dico ma non dirà nessuno mentre mi lavavo le mani mi si presenta un scheletro davanti hai capito un scheletro e ho visto tutto quello dove era rotto tutto ho visto tutto e dice ero preparato ho visto tutto ero sicuro che verranno lui aveva la scuola di geometra pena diplomato è venuta la guerra e la scuola lui ha preso tedesco non è stato un caso perché quel tedesco lui ha dovuto imparare cambiare vita l'hanno preso l'hanno portato con con nel lager e lì quando uscivano fuori dai forni poveri morti bisognava veniva uno o due scienziati con lui col caretto adesso prendi quello prendi quello mettilo sul caretto e portarlo nella sala operatoria dove facevano esperimenti dove studiavano delle malattie studiavano corpi cercavano i bambini i vecchi giovani donne uomini secondo cinque anni lui ha dovuto fare marcellaio hai capito la sua vita e gli davano un pezzo di pane di più degli altri lui questo pane alla sera lo metteva sotto quella giacca che carceriere come erano sai tutti a striscia tutti così faceva un giro come nel polaio perché uno sopra l'altro così che erano messi a dormire e lui prendeva un pezzettino fai la comunione un altro pezzettino fai la comunione parlavano di piante parlavano di medicinali naturali parlavano di malattie e di queste cose lui ha registrato tutto perché era intelligente si ricordava di quelle piante si ricordava come fare la ricetta delle pomate si ricordava come fare il liquido come fare tutto quando è venuto a casa lui il geometra non l'ha fatto più ha comprato dei libri ha cominciato a raccogliere le piante e fare le pomate e fare preparare e aiutare la gente e mettere a posto le ossa mettere a posto le distorsioni e mettere a posto tante cose ha cominciato venire la croce rossa di Torino poi quella di Susa poi aiutare le persone in difficoltà lui riusciva a fare a trovare i punti dove toccare e come fare la croce rossa